Ragazzi! Gianni Gostè! Gianni Giorostè! Ragazzi! Gianni Gostè! Ragazzi buonasera! Ringraziamo Giannino che finalmente ci ha dato questa prossima! Salerno! Non so niente l'hai conosciuto! Allora finito di fare gli studi! Vediamo che vi siete organizzati, siete al mare! Buon divertimento! Cuparù! Allora finito no, dobbiamo parlare! Dobbiamo parlare ragazzi, dobbiamo parlare per contratto ma dobbiamo parlare! Allora! 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 Vino se mi state divertendo, siete al mare! Ehi, parla parla! Allora! 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 Non so che fai un taglio, come va! Scegno, vieni al mare! Chi si crema è il mare! Non lo sappiamo tu qua! Allora! Allora! Parliamo del mare! Parliamo delle cose che si fanno al mare! Voi cosa fate al mare? Le ragazze! Allora questa... Questi amori estivi! Se mi fai conosci e conosci! Perché voi non usate nessuna tecnica per le ragazze! Ma questa è una tecnica particolare! Per le ragazze al mare! Mi fa cadere sui piedi, come va! Per fare la cadere sui piedi! Eh, come la cadere faccio il fosso rosso, no? Il fosso è no! Ma ci metto giù la coppa e la sabbia coppa! Quante fiemerga mica? Che non è l'interno! Per chi fa cadere la sabbia? E poi chi non lo conosce? Prova la lettera! Ma scusate che accompagna l'ospitali che conosce sempre, come va! Io mi ospitavo in una madre, dove sei, con chi da fai! Ma ragazzi, ma mi sembra una cosa piuttosto artificiosa per conquistare una ragazza! No, no, no! Cosa è più semplice! Vosso padre non vi ha insegnato niente, vostro padre! No, no! La buccia era una tecnica esclusiva, la buccia, che aveva usato l'inizio! Quale sarebbe? Quando conoscevano i compagnoni, camazzo di romperlone, lo conoscevano, lo scassavano in camera! Quello ci venivano! Ma ragazzi! Prendevano la testa! Prendevano per i sensi! Ma ragazzi, se non si fa così! Lo conoscevano, portavano all'ospitali, con una denuncia, venivano sempre buono! La denuncia non aveva nessuno per un romperlone che era rubato! Ecco, proprio per piacere! Io non ho mai spiaggia libera, lì papucci come spiaggia libera è libera, qualsiasi cosa si trovo su roba! Ah, ecco! Mi sa che anche questa sera abbiamo fatto un altro programma! Avviato una bella abbrossatura! Come una bella abbrossatura! Che cosa avete usato? Qualcosa, no? No, io mi sono abbrossato perché mangi... C'è una protezione assaglia! Mangi su una protezione troppo forte! C'è cosa? Castrol GTX3! Però mi sono abbrossato assaglia! Non è da macchina questo! E' buono per la macchina, non posso mettere più niente! Non posso mettere la macchina, non posso mettere la macchina! Ma ora tu hai paura se mettere per dù? Oh no! Ok ma non quello? Noni ho scato lo ho! Particare un femmino ma dove... E' anch'è! Club uno scatto, no! E' una bella troppa telec 91! Ho butti il gruppo alle zehn in scattano! Non posso mettere la coraggio! Boooomar gomba! In intentino! Niente! Boooomar gomba! WEIVERIVERNATIONSATENASSUUS!